Amici del TGIM, sono in compagnia di Giuseppe Macciotta, presidente del Tennis Club Cagliari. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per questa presenza durante questa ultima giornata dei campionati sardi. Grazie a lei. È soddisfatto della riuscita dei campionati? Sì, devo dire assolutamente di sì. Sia da un punto di vista agonistico, abbiamo assistito a degli ottimi match di grande livello e oggi assisteremo a due finali, quella dei singolari particolarmente importanti e prestigiose. Ma mi è piaciuto soprattutto il clima che si è creato intorno alla manifestazione. Tutte le giornate hanno fatto registrare una buona presenza di appassionati, favoriti anche dalla ottima organizzazione e dal bel tempo. Quindi mi pare che il Circo l'abbia fatto da degna cornice a questi campionati. Cosa rende così esclusivo il Tennis Club, oltre che per i campi ovviamente? Se posso dire, proprio il concetto di esclusività mi parrebbe ormai superato. Probabilmente figlio di tempi ormai passati. È un circolo aperto alla cittadinanza che ha in questi anni invertito, un trend negativo che poteva essere così collegato alla congiuntura non favorevole. I soci stanno tornando e soprattutto siamo aperti all'esterno. Il 15 ottobre, se tutto va bene, inaugureremo un campo da paddle, quindi introducendo una nuova disciplina. Copriremo il campo numero 4, consentendo al Circo di proseguire l'avventura a livello nazionale e offrendo ai ragazzi la possibilità di fare dello sport al coperto nei mesi più piovosi. Ci aspettiamo una risposta importante, avvicinarsi a questo circolo che, ripeto, non ha più quel connotato di esclusività di un tempo ed è aperto a tutti e ha bisogno di tutti perché reggere l'attività agonistica, l'attività recreativa, ha bisogno di molte e sempre crescenti presenze. Un'ultima domanda, se posso, per lei qual è la ricetta per tirar fuori un campione? È una ricetta complessa, ci vuole una struttura adeguata sotto un profilo tecnico, ci vogliono le capacità e le doti del ragazzo, ci vuole anche un clima sereno, quindi un giusto rapporto tra sport e crescita con poche ingerenze dei genitori che costituiscono purtroppo, ma adesso senza drammatizzare questo elemento, però certamente il problema dei genitori che antepongono i loro desideri alla crescita naturale dei figli qualche volta crea qualche problema. Però il circolo, da questo punto di vista, è un'oasi, abbiamo un rapporto con i genitori molto sereno, molto equilibrato, perché capiscono i ruoli diversi che nella crescita, ma soprattutto nella maturazione psicologica del ragazzo, perché poi gli atleti finiscono, ma prosegue la vita da uomini in cui la crescita sportiva è davvero importante. Benissimo, io la ringrazio e ne approfitto per fargli tanti auguri di buon compleanno. Grazie, molto gentili. Grazie, grazie di tutto. Grazie a lei. Io sono Claudia e questo è il TGIM. Grazie. Grazie a tutti.